salve ragazzi e benvenuti a questo video di my music allora avete visto che la pagina è momentaneamente chiusa ma riaprirò tra poco e adesso vediamo quando riuscirò a farlo comunque sta andando tutto bene per ora ho qualche novità in campo di canzoni che devo fare ma non le metterò sul sito per motivi che non posso spiegare adesso ma nel prossimo video ci sarà tutto però cercherò di registrare qualche cover in modo da tenere aggiornato il sito e devo dire anche un'altra cosa fra qualche settimana partirò per la Finlandia e cercherò di fare qualche video da là e in limite massima cercherò di fare un video ogni settimana resto là tre settimane senza che fanno di più sarebbe meglio però non garantisco nulla detto questo vorrei ringraziare tutte le persone che continuano a visitare il mio sito perché sono sempre di più inoltre volevo anche dire grazie a tutte quelle persone che hanno aggiunto il loro mi piace il collegamento a twitter e che mi stanno seguendo e ma soprattutto un grande grandissimo grazie va a tutti i fan oltre Italia quindi stranieri che sono aumentati tantissimo devo dire le visualizzazioni dei miei amici stranieri sono aumentati tantissimo cercherò di fare un video in inglese in modo da ringraziarli proprio per bene però in questo periodo ho fatto gli esami quindi non ho avuto tempo necessario per poter fare questo video detto questo io vi ringrazio tantissimo ancora dire mille è troppo poco quindi lascio così però ragazzi state collegati perché presto arriveranno novità grandi registrazioni canzoni cover novità su una cosa bellissima che sta accadendo adesso belluno soprattutto a me e quindi grazie ancora mille mille mila e ci vediamo a un prossimo video che sarà molto presto ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti